Juventus, esonero ufficiale e sostituto a sorpresa. Ti invitiamo a sostenere il nostro canale iscrivendoti e lasciando un mi piace a questo video. Juventus, sconvolgimento nei vertici, esonero ufficiale e sostituto a sorpresa. L'esonero ufficiale è stato annunciato gettando un'ombra di incertezza sul futuro del club. La Juventus, da sempre al centro delle attenzioni, si trova ora ad affrontare un momento cruciale con la speranza di riuscire a risollevarsi da una serie di sfide che hanno messo a dura prova il suo prestigio. Il campo di gioco non è stato clemente con i bianconeri, con una serie di risultati deludenti che hanno messo in discussione gli obiettivi stabiliti all'inizio della stagione. Il passato glorioso sembra lontano e il presente è un terreno instabile, pronto a crollare sotto la pressione delle aspettative. Le polemiche non accennano a placarsi nel mondo della Juventus, con una gestione sportiva che viene costantemente messa sotto accusa. Il club, abituato a sfidare i giganti del calcio europeo, si trova ora ad affrontare una crisi senza precedenti. Le recenti decisioni prese dalla dirigenza hanno sconvolto gli equilibri interni con l'esonero dell'allenatore che rappresenta un punto di svolta nella storia recente del club. Anche la sezione femminile della Juventus non è immune alla tempesta che sta scuotendo il club. Dopo un periodo di dominio incontrastato nel calcio femminile, la squadra si trova ora ad affrontare una fase di transizione con l'esonero del tecnico Joe Montemurro che ha sorpreso molti. Il nuovo corso vede Giuseppe Zappella prendere le redini della squadra femminile con l'obiettivo di riportare la Juventus Women alla gloria passata. Il mondo della Juventus è in fermento, con molte incognite da risolvere e un futuro pieno di incertezze. Ma una cosa è certa, la passione e l'orgoglio dei tifosi continueranno a guidare il club attraverso ogni tempesta.